Stamattina a Grottaglie protesta dei dieci operatori dell'asilo nido comunale che a seguito dell'assegnazione dell'appalto ad altra cooperativa senza il passaggio dei lavoratori rischierebbero il posto di lavoro. Sul piede di guerra naturalmente anche i genitori degli oltre 50 bambini che usufruiscono dell'asilo comunale e che sono preoccupati per l'aspetto psicologico a seguito del cambio ad altri educatori, che sarebbe dovuto avvenire oggi con la consegna delle chiavi alla nuova cooperativa Giocolandia. In gioco ci sono i nostri bambini, noi siamo gli utenti indiretti perché gli utenti veri sono i bambini. Questi bambini sono gestiti da settembre da lavoratrici, loro le chiamano le zie, che hanno iniziato un progetto. Queste lavoratrici dovrebbero sospendere il progetto educativo in questa data, oggi avrebbero dovuto consegnare le chiavi della struttura e noi avremmo quindi avuto il disagio di dover vedere il passaggio dei nostri figli da operatrici, da educatrici che hanno conosciuto sin da settembre ad altre. I rappresentanti sindacali dopo il nulla di fatto delle scorse mediazioni con l'assessore ai servizi sociali, con il sindaco del comune ionico e con la manifestazione di questa mattina chiedono oggi che la prefettura di Taranto convochi con urgenza le parti per un ulteriore tentativo di mediazione.